Gentili amici ascoltatori, è Daniela che vi saluta e vi augura un buon ascolto del programma odierno. Come di consueto, tratteremo il tema del giorno rivolgendo delle domande a Luigi e ci avverremo dell'aiuto di Monica per le schede storiche. In questa puntata vogliamo occuparci di un argomento che tocca la sensibilità religiosa di un gran numero di credenti, il culto dei Santi. Soprattutto il cattolicesimo romano ha avuto una grande parte nella nascita e nel consolidamento di tale pratica. Ma è una pratica evangelica? In poche parole, dobbiamo o no invocare i Santi? Intanto un saluto a tutti, da parte anche mia, da parte di Luigi. E poi rispondere a questa domanda significa perlomeno tornare un attimo a considerazioni più ampie su che cosa la Bibbia dice a riguardo dei Santi. Chi sono i Santi per la Bibbia? Visto che sia il cattolicesimo romano che le altre fedi cristiane, in genere dovrebbero almeno fidarsi della Bibbia che è la base per eccellenza per ogni disquisizione, diciamo così, di ordine teologico. Ecco, la Chiesa Romana insegna riguardo ai Santi che essi sono, praticamente, coloro che praticando eroicamente le virtù secondo gli insegnamenti e gli esempi di Gesù Cristo meritano, o hanno meritato, meritarono, speciale gloria in cielo e anche in terra. E il Concilio Vaticano II ha precisato che, secondo la tradizione, i Santi sono l'oggetto di un culto nella Chiesa e vi si venerano le loro reliquie autentiche e le loro immagini. Quindi, ecco, per la Chiesa Cattolica i Santi sono persone che hanno acquistato dei meriti particolari e che devono essere, in qualche modo, venerati. Ora, invece, la scrittura, proprio a riguardo dei Santi, dice qualcosa di molto diverso. Innanzitutto, chiariamo che cosa significa la parola Santo. Ecco, la parola Santo significa uomo giusto, persona giusta. Allora, voi direte che la Chiesa Cattolica ha ragione perché tutte le persone che si comportano in maniera giusta sono dei Santi e quindi hanno diritto a una speciale venerazione. Ecco, la Bibbia, invece, ci dice che i giusti non sono coloro che hanno degli speciali meriti, che hanno fatto qualcosa per acquistare dei meriti. Sono giusti tutti coloro che hanno accettato umilmente Cristo, che si sono umiliati, che si sono sottomessi al volere di Cristo e che hanno ricevuto il perdono dei peccati. Quindi, dal primo all'ultimo credente sulla faccia della terra che ha nel cuore Gesù Cristo, che ha confessato il suo peccato, che ha riconosciuto di essere un uomo fallace, una donna fallace, che non è capace di poter raggiungere la salvezza da solo, dal primo all'ultimo cristiano che ragiona così, ecco, io posso dire che può meritare l'epiteto di Santo. Quindi, anche il più semplice dei cristiani, che non ha fatto particolari atti eroici, che non ha particolari virtù, ma ha accettato Gesù Cristo nel cuore e profondamente è un santo, un uomo giusto. Cioè, il Dio ha impartito la sua giustizia a colui, a colei, che si sono sottomessi a lui. Quando una persona riconosce il Signore Gesù come Salvatore e quindi riconosce di avere bisogno di questo Salvatore, in quel momento il Signore considera questa persona una persona giusta, cioè santa, perché ha fatto la cosa più giusta che doveva fare. Ecco, in questo senso la Bibbia dà agli esseri umani il valore di santi, attribuisce ai cristiani la parola santi. Ebbene, il Comba, nel suo libro Cristianesimo e Cattolocesimo Romano, dice quanto segue. Contrariamente al chiaro insegnamento della Sacra Scrittura, per cui sono santi tutti i cristiani veramente convertiti a Dio, giustificati per fede e rigenerati dallo Spirito, ed incamminati nella via della santificazione, cioè della consacrazione a colui che solo è il Santo, in modo perfetto e assoluto, la Chiesa Romana dà il titolo di santi soltanto ad una categoria di defunti nominati tali dal Papa. Ecco, quindi io credo che tra l'idea evangelica, biblica della santità e quella cattolico-romana c'è un profondo abisso, con tutto rispetto, ripeto, per coloro che credono in questa dottrina. Ma noi qui vogliamo chiarire il significato della parola santo e di che cosa si intende quando una persona è, secondo la Bibbia, definita santa. Dobbiamo rendere culto e venerazione ai cosiddetti santi? No, perché io, in tutta umiltà, sono convinto di aver chiesto perdono al Signore, sono convinto di essermi incamminato, perlomeno, sulla via della santificazione, della salvezza. Il Signore, dopo aver accettato il mio perdono, mi ha anche salvato, mi ha anche redento, mi ha giustificato, cioè mi ha reso giusto e quindi mi ha santificato. Quindi, senza presunzione, senza orgoglio, posso dire di essere un santo e lo sarò fino al giorno in cui rimarrò fedele al Signore Gesù. Dal momento che io diventerò infedele, per un motivo o per un altro, o un peccatore, perderò questo privilegio di santità che il Signore mi può restituire ogni momento, ogni volta che io, riconoscendo il mio peccato, mi avvicino a Lui. E quindi, vedete, io non ho nessun merito, nessuna virtù e non sono assolutamente degno di nessuna adorazione, di nessuna venerazione. Ma, come tutti gli altri che hanno accettato il Signore, anch'io mi reputo un santo, un uomo giusto, non per la mia giustizia, ma perché ho fatto l'unica cosa giusta, cioè ho scelto Gesù Cristo, il Salvatore, che può rendermi giusto. Quindi, nessun merito personale che parte dall'uomo, ma un'azione divina che parte dal Signore Gesù Cristo. Ci puoi dire qualcosa riguardo ai Santi Protettori, Luigi? Del resto, la stessa Bibbia ci esorta a pregare gli uni per gli altri. Perché allora non dovremmo pregare i Santi? Rispondiamo prima al problema dei Santi Protettori. Chi sono i Santi Protettori? Come bisogna porsi di fronte a questo fenomeno, a questo fatto? Ebbene, Monica ci leggerà ora uno strancio di una lettera pubblicata sulla stampa, un giornale quotidiano di Torino che tutti conoscete. Ebbene, il testo è tratto dalla stampa appunto del 22 febbraio 1957 ed è uno strancio di una lettera di un lettore che scrive a questo quotidiano a riguardo dei Santi Protettori. Ascoltiamo con interesse. La stampa del 16 febbraio riproduce un breve elenco dei nuovi 152 Santi Protettori assegnati dalla città del Vaticano alle varie categorie. Vi sono indubbiamente fra questi nominativi personalità di alto valore morale e spirituale a cui è doveroso inchinarsi i reverenti. E per taluni si può anche riconoscere un certo qualnesso fra Santo Protettore e la categoria assegnata. mentre per altre categorie esempio stenografi, ciclisti e commercianti la cosa è un tantino meno chiara. Probabilmente per carenza di ulteriore disponibilità di Santi si attinge ora alle gerarchie celesti e dai postelegrafonici si assegna l'Arcangelo Gabriele mentre alla pubblica sicurezza è riservato l'Arcangelo Michele. Non è che si voglia menomamente contestare alla Chiesa il diritto di disporre delle gerarchie celesti ma viene fatto di domandarsi se di questo passo non sentiremo un giorno o l'altro recitare nel Padre Nostro la tua volontà sia fatta nei cieli come è fatta sulla terra. Ecco la lettera è abbastanza pungente forse anche un po' direi insomma cinica senza altro pone il problema in maniera molto pressante è un lettore probabilmente sarà anche un cattolico che si chiede se la Chiesa ha il diritto di disporre delle gerarchie celesti o di tutte le personalità diciamo così divine per assegnarle come santi protettori a diverse categorie esistenti sulla terra. Ecco noi ci chiediamo la stessa cosa io non trovo da nessuna parte sulla Bibbia che una categoria di persone debbano essere protette da un determinato santo o un determinato angelo e il discorso dei protettori viene a cadere per il semplice fatto che noi non crediamo che nella Bibbia sia dato a una categoria di persone un privilegio così grande quello di essere santi al di sopra di tutti capaci di elargire grazie e dispensare anche benedizioni e anche protezioni noi non pensiamo che ecco noi crediamo che nessun uomo ha il potere e nemmeno il permesso da parte di Dio di ritenersi protettore di qualcuno né in questa vita né nell'altro mondo almeno a livello di sovrannaturale nessuno di noi può dispensare grazie e ripeto proteggere nessuno perché ognuno di noi ha bisogno della protezione di Dio e della sua santità ora che cosa rispondiamo a chi ci obietta che la stessa Bibbia ci esorta a pregare gli uni per gli altri e che quindi sembra quasi logico invocare le tercesioni dei santi sembra questo il senso della seconda parte della tua domanda ecco noi crediamo nella comunione dei santi non voglio assolutamente dire di no come tutte le chiese cristiane credono nella comunione dei santi cioè nella comunione dei credenti che sono ora viventi e di quelli che godono della 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 nuova vita in Cristo per aver accettato Gesù Cristo questa è la comunione dei santi ecco noi non sappiamo molto su quello che succede nell'aldilà e quindi non possiamo nemmeno costruirvi una dottrina a meno che questa stessa dottrina dell'aldilà non sia già rivelata nella Bibbia ma ripeto questa dottrina dell'intercessione dei santi e del protettorato da parte dei santi non ha nessuna rispondenza biblica non c'è nessuna traccia sulla sacra scrittura di questa dottrina ora c'è un pericolo secondo noi che è questo perché il santo al quale ci si rivolge in preghiera diventa automaticamente inevitabilmente un oggetto di culto di adorazione quindi diventa un semidio nel quale il popolo si confida per la propria salvezza ed è molto facile trovare persone che non pregano mai il Signore Gesù hanno tanta paura del Dio Padre non lo pregano mai nemmeno lui ma si rivolgono facilmente per esempio alla Madonna o a qualunque altro santo a San Giuseppe a Santa Rita eccetera eccetera ognuno di noi a un santo privilegiato particolare nel quale riporre il proprio affetto che preferisce addirittura al Signore Gesù Cristo ecco io credo che questo atto diciamo così di culto sia molto semplicistico più che semplice che spesso sia indice anche di buona fede da parte di chi pratica un atto di questo genere credo che le persone spesso ci mettano cuore e anima nell'invocare i santi non lo fanno certo così con l'assismo o per ringraziarsi il santo io credo che ci sia anche molta buona fede però è una buona fede ma riposta la Bibbia ripeto non autorizza a pregare nessun santo perché santi di questo genere la Bibbia non ne prevede ecco io ripeto noi dovremmo stare attenti perché inevitabilmente uno di questi santi potrebbe diventare un semidio e prendere il posto del vero e unico Dio esistono argomenti solidi e fondati che sconsigliano l'invocazione dei santi? ne esistono senz'altro e diversi ne abbiamo già ricordati due per esempio l'insegnamento per cui è santo colui che ha dei meriti e che ha fatto tanti miracoli per potersi acquisire questo merito è un insegnamento che non è assolutamente scritturale non è biblico non è evangelico abbiamo detto che sono santi coloro che accettano Gesù Cristo anche se non fanno particolari miracoli non hanno particolari virtù poi abbiamo anche detto che a questo tipo di santi eletti dal Papa che poi sono defunti in qualche modo sono tutti morti si 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 dà quasi si presta un culto si presta un culto e si scivola quindi nell'idolatria adoriamo delle creature anche se sono state magari creature degne dimensioni con particolari anche dote che vogliamo ma è comunque sempre un'adorazione rivolta a una creatura che la Bibbia condanna apertamente come idolatria poi non soltanto nel Nuo Testamento manca il minimo accenno a una venerazione speciale per una parte dei defunti ma in esso si trovano dei passi in cui vediamo gli apostoli rifiutare decisamente di accettare qualsiasi segno di venerazione che sconfini nel culto religioso ecco per esempio gli apostoli si 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 arrabbiano quando vengono dai pagani in qualche modo considerati degli dei dei semi dei diventano molto ma molto rigidi su questo punto noi non siamo degli dei siamo degli uomini come voi come quando per esempio anche l'apostolo giovanni inchinandosi di fronte all'angelo che gli aveva portato il messaggio della cosiddetta apocalisse della rivelazione cede dall'angelo stesso un rimprovero non non fare questo perché io sono un servo dei tuoi fratelli sono un conservo come te quindi un angelo che rifiuta l'adorazione di giovanni o anche solo la venerazione se noi possiamo usare questo termine la rifiuta no non ti prostrare non ti mettere in ginocchio io sono una creatura come te anche se l'angelo è una creatura superiore all'uomo senz'altro ma se gli angeli rifiutano la venerazione e l'adorazione tanto più io penso che qualunque altro tra virgolette santo dovrebbe rifiutare la venerazione e l'adorazione e non possiamo quindi a questo punto nemmeno fare più il giochetto delle parole noi non adoriamo il santo ma lo veneriamo il che è diverso non è diverso assolutamente nella mentalità popolare non c'è questa questa differenza non si fa non si opera questa differenza una volta che ci si inchina di fronte a un santo ci si inchina come di fronte a Dio e il popolano che si inchina di fronte il fedele che si inchina di fronte a un santo è come si inchinasse per adorare una creatura e quindi commette peccato di idolatria mi dispiace essere così diciamo secco ma è quello che la Bibbia ci consiglia è quello che la Bibbia dice ecco riflettiamo molto su questo Apocalisse capitolo 19 e Apocalisse capitolo 22 sono testi che ci fanno riflettere sul come nemmeno gli angeli del cielo accettano venerazione e tanto più adorazione da parte degli uomini allora io dico quanto più ripeto noi dovremmo stare attenti a prestare culto invece a delle semplici creature un altro argomento contro il culto e l'invocazione dei santi è che la pratica popolare e anche quella ufficiale del culto dei santi come per esempio preghiere i voti le feste gli altari le messe e i luoghi di culto ad essi consacrati dimostrano con somma evidenza che si tratta di ben altro che una semplice venerazione e non si può venerare una persona facendo tutto quello che si fa per per esempio per il Padre Celeste o per Cristo anzi abbiamo detto che spesso noi facciamo più per una precreatura che per Cristo stesso mentre la Sacra Scrittura non solo autorizza ma esorta fortemente i cristiani a pregare gli uni per gli altri e quindi a sollecitare le preghiere dei fratelli nella fede noi non vediamo mai che sia prescritto o permesso di invocare i fratelli defunti sollecitando da essi tale aiuto non esiste il minimo indizio che lasci supporre che gli spiriti dei morti siano onnipresenti sopra la terra in maniera da essere in grado di poter ascoltare le preghiere dei viventi questo la Bibbia non lo dice assolutamente non lo fa assolutamente capire ecco poi mi riservo di tornare su questo problema dell'aldilà del morto che può o non può fare delle grazie quando parleremo dell'immortalità appunto quindi ecco io penso che di argomenti ce ne siano a sufficienza per poter dire che l'adorazione o anche la semplice venerazione di un santo non solo non è prescritta e consigliata dalla Bibbia ma addirittura diventa in qualche modo stimolo per espressioni e atteggiamenti pagani anche se ripeto fatti spesso dai fedeli in buona fede in buona coscienza quindi io non sto assolutamente colpevolizzando nessuno sto soltanto mettendo in rilievo il fatto che la Bibbia ci esorta a non cadere in questo errore nel quale invece sono caduti i pagani e proprio a riguardo di questo ultimo argomento quello della connessione tra culto diciamo cattolico romano e paganesimo avrei da dire ancora poche cose ma che sono senz'altro importanti ora nella concezione religiosa degli antichi greci era ammesso per esempio che una creatura umana potesse acquistare la dignità dopo la morte ecco i romani a loro volta onoravano l'ospito degli antenati i famosi lari domestici e i romani supponevano che il defunto continuasse ad abitare nella sua casa e gli eredi collocavano perciò una statuetta dedicata ai lari domestici considerati i numi tutelari della casa quindi i protettori di quella casa tutto questo è completamente strano al pensiero della Bibbia ma quando il cristianesimo si impose il paganesimo purtroppo riuscì a sopravvivere ugualmente cambiando nome ecco per esempio ai numi si sostituirono i martiri e tutto rimase tale quale quindi non c'era più il nume tal dei tali a proteggere la casa ma il santo tal dei tali ora la sostanza non cambia la sostanza non cambia cambia solo l'apparenza sono cambiati i nomi ma la sostanza è quella cioè il paganesimo ecco e poiché anche per esempio le varie corporazioni avevano i loro numi tutelari a quel tempo avvenne che il nume tutelare dei medici per esempio Esculapio divenne poi i santi Cosma e Damiano che sono i protettori appunto della categoria dei medici la dea dei cacciatori Diana per esempio è diventata oggi in ambito cattolico Sant'Uberto protettore dei cacciatori il dio della vita e del vino Bacco per esempio adesso è diventato San Vincenzo Minerva che era la dea degli studi adesso è diventata Santa Caterina e così via quindi ripeto che noi siamo fortemente in ambito pagano quando avvaloriamo la dottrina del culto dei santi protettori ecco io credo che la Chiesa cattolica almeno in questo in questo momento potrebbe aiutare i suoi fedeli a riflettere su questo punto e abbandonare questa strada del culto ai santi perché ripeto è una strada che nasce in ambito pagano è un'abitudine pagana è rimasta tale e quale anche se la Chiesa Cattolica ha cambiando i nomi cercato di proporre un culto antico ai propri fedeli sotto le vesti diciamo così della pietà cristiana ma io ripeto noi siamo di fronte a una sovrapposizione una sovrapposizione tutto ciò che era pagano è diventato soltanto di nome cristiano ma la sostanza ripeto rimane la stessa prestando culto ai santi protettori o credendo a questo noi non facciamo altro che ricalcare le orme dei nostri predecessori pagani un'altra domanda si dice che la Chiesa Cattolico-Romana ha proposto al culto dei fedeli santi che non sono mai esistiti è vero? Sì purtroppo c'è anche questo aspetto poco simpatico poco piacevole non so bastino pochi pochi esempi per esempio c'è San Longino che sarebbe il famoso soldato che colpì con la lancia il Salvatore in croce ecco non si trova niente sul suo conto prima della fine del IV secolo e dopo quella data sorge una tradizione incerta secondo cui quel soldato si sarebbe convertito al cristianesimo ed avrebbe anche subito il martirio in Cappadocia ecco tutto appare un po' fantastico non ci sono prove il nome suo stesso Longino è stato inventato di sana pianta perché deriva dalla parola greca l'once cioè lancia e anche gli autori cattolici seri ammettono che è un personaggio fittizio insomma creato dalla fantasia però questo non impedisce che per esempio la sua statua si trovi nella basilica di San Pietro in Vaticano e che dal VI secolo in poi si siano rinvenute non meno di nove lance di questo soldato naturalmente tutte autentiche tutte differenti nella chiesa latina San Longino è venerato il 15 marzo invece in oriente il 16 ottobre c'è poi San Cristofro questo famoso santo protettore dei pericoli e patrono degli automobilisti anche questo è un personaggio leggendario è una leggenda non anteriore all'XI secolo che lo rappresenta come di statura herculea che traghettava sulle sue spalle gigantesche i viandanti attraverso un largo fiume e l'ultimo di questi viandanti sarebbe stato addirittura il bambino Gesù infatti Cristoforo significa colui che porta Cristo Baronio ritiene che si tratti di una creazione simbolica la tradizione più antica ne parla come di un martire al tempo della persecuzione di Deciun nel III secolo ma senza riferimento alla sua statura e tutto il resto è un prodotto della fantasia popolare che ha lavorato sul nome stesso di portatore di Cristo Santa Filomena ecco un'altra santa inventata che non non ci ha detto niente di assolutamente noto dalla storia riguardo all'esistenza di questa vergine martire invece di cui si scoprì una lapide nel 1802 nelle catacombe di Priscilla e niente più che il nome non si dice né quando né quando né come visse e questo non toglie che Gregorio XVI invece abbia decretato il culto di tale sconosciuta da celebrarsi il 6 agosto poi la famosa Veronica ancora secondo una tradizione sarebbe stata una delle piedonne che seguirono Gesù sulla via del Calvario e gli avrebbe offerto un panno per asciugarsi il volto su quel panno si sarebbero impressi poi i lineamenti di Gesù ecco di questa donna si ignora il nome infatti è fittizio il nome Veronica perché deriva da vera icon cioè vera immagine eppure anche questa è una santa proposta all'adorazione al culto santo espedito un altro santo inventato ecco al principio del nostro secolo nacque e si diffuse specialmente nel napoletano il culto di questo santo che è sbocciato da un gioco di parole in quanto egli praticamente secondo la mentalità popolare fa le grazie speditamente per espresso ecco si scende quasi nell'ilarità ma a noi non ci compete un atteggiamento di questo genere vogliamo piuttosto concludere con un'invocazione quasi drammatica di un cattolico di un signor cattolico padre Carlo Maria Curci morto nel 1891 gesuita fondatore della famosa rivista civiltà cattolica nel 1850 ebbene egli poi lasciò l'ordine dei gesuiti per le sue idee liberali fu oratore professore d'ebraico commentatore scrittore vivace ed egli proprio a riguardo del famoso culto dei santi di cui stiamo parlando scandalizzato con la sua chiesa scrisse il Vaticano che avrebbe potuto recidere un tanto abuso ha lasciato correre se non anzi vi ha soffiato dentro obbligatovi dalla nessuna simpatia che può avere per Gesù Cristo intanto in quelle praticucce e predicucce trovano posto tutti i nuovi santi e le nuove madonne tutte le nuove rivelazioni e tutti i nuovi miracoli riferiti dai giornali cattolici il solo che non trovi raro dimezzato malcapito e svogliato è Gesù Cristo questa è la piaga della chiesa cattolica e credo che sia oggi la massima calamità dell'Italia cristiana ma quanto a me conclude questo gesuita se io a furia di santi e di madonne dovessi mai scordarmi di Gesù Cristo mando a monte santi e madonne per affermarmi per afferrarmi a Gesù Cristo senza del quale non vi sarebbero né santi né madonne ed io medesimo non sarei cristiano io credo che noi dovremmo riprendere le parole e gli atteggiamenti di questo padre Carlo Maria Curci e dire insieme con la sacra scrittura soltanto a Dio nostro padre è dovuto all'adorazione e a nessun santo bene per oggi ci fermiamo qui nella prossima trasmissione parleremo di un altro genere di culto altrettanto diffuso quanto quello dei santi ci occuperemo infatti delle reliquie un tema che offre spunti per inquietanti e sconcertanti analisi vi salutiamo dunque e a risentirci alla prossima puntata grazie a tutti